A Monta circa 5 miliardi e 800 milioni di euro il bilancio di previsione 2012 della Regione Abruzzo, approvato durante la notte dal Consiglio regionale, dopo ore di dibattito. Tra le novità contenute nel documento contabile, spicca la facoltà per il consigliere regionale che abbia maturato i requisiti al vitalizio di rinunciare al diritto e di ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di contributi fino a quel momento. È stata corretta la norma che introduceva il ticket di 10 euro sulle prestazioni sanitarie, che dal 1 gennaio non potrà più superare il costo totale della prestazione stessa stabilita all'altarifario nazionale. Nei mesi scorsi, infatti, era accaduto che esami diagnostici nelle strutture pubbliche avessero un costo superiore a quello delle strutture private. Nel bilancio del prossimo anno viene istituito un nuovo capitolo destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati con uno stanziamento di 400 mila euro. Al sostegno delle imprese turistiche andranno fondi per 2 milioni e 800 mila euro, mentre 750 mila serviranno per il finanziamento delle tessere di libera circolazione concesse a particolari categorie di cittadini sui mezzi del sistema di trasporto pubblico locale e regionale. Confermata la proroga fino al 30 settembre 2012 delle procedure di liquidazione della PTR, mentre quelle di Abruzzo Lavoro si concluderanno entro il 29 febbraio. Aumentano i canoni di concessione delle risorse idriche, con un incremento che oscillerà tra l'1% per gli usi agricoli e il 15% per le attività commerciali e industriali. La provincia di Pescara riceverà 500 mila euro per la riqualificazione dell'ex colonia Stella Maris, mentre 800 mila euro saranno destinati a interventi sulla viabilità a Lanciano e Castelfrentano. Altri 150 mila saranno destinati come contributo al polo fieristico regionale di Lanciano. Per la realizzazione di strutture sociali destinate a minori e disabili, la Regione contribuirà ai progetti delle organizzazioni di volontariato con un fondo di 100 mila euro. Tra le altre misure ci sono 180 mila euro per il dragaggio e il ripascimento delle spiagge abruzzesi, 200 mila euro di contributo all'Istituto di Ricerca Mario Negri Sud, 120 mila euro per il funzionamento del CRAM, il Consiglio degli Abruzzesi nel mondo, 100 mila euro per il Fondo regionale degli Sfratti, 50 mila per il Fondo per gli aiuti alimentari ai bisognosi e 60 mila per il Fondo destinato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle donne. Nella legge finanziaria è stato invece inserito un emendamento che riguarda la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2009. La norma prevede il dimezzamento dei tempi del procedimento amministrativo per i piani attuativi in variante degli strumenti urbanistici vigenti. Sul fronte della riforma del sistema dei trasporti, sempre all'interno della finanziaria, è prevista una norma che recepisce un progetto di legge già approvato in giunta per la creazione della Società Unica Regionale per il Trasporto su Gomma attraverso la fusione di ARPA, GTM e lo scorpero del ramo d'azienda della Sangritana, che invece continuerà a gestire il traffico ferroviario.